io davvero io posso capire ma c'è pure la pasqua c'è pure la pasquetta la pasqua mi avete rovinato allora io mi aspettavo io 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 me l'aspettavo una sconfitta ma così no c'è cacchio al 95 no c'è che sfiga c'è saremo stupidi noi ma certo che veramente o ci sono modi e modi per perdere ma così no cacchio 1 a 0 contro la lazio perdiamo al 93 minuto gol di maruzic 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 raga criticato da tutti maruzic ma sul serio cioè prendiamo gol da maruzic al 93 minuto ma io lo sapevo io cacchio se lo sapevo era nell'aria era nell'aria raga era nell'aria era nell'aria era nell'aria poco da dire abbiamo sfiga nel senso oggi era una partita da pareggio per come era per come si era svolta una partita da pareggio da 0 a 0 e non non era un brutto risultato perché non mi arrabbio così tanto perché un punto a 0 non cambia tantissimo ma io spero che i ragazzi si sveglino e riescano a reagire perché veramente così non si può andare avanti fatevi in questa stagione vi prego fatela finire faccio veramente fatica a metabolizzare il tutto perché oggi a me non si può dire che la Juventus ha giocato bene non si può dire che la Juventus ha fatto una bella partita oggi ma Cristo Cristo non si può dire allo stesso tempo che la Lazio abbia giocato bene cioè ragazzi per la rosa che aveva la Juventus oggi cioè Scesni, De Sciglio, Bremer, Rugani, il terzino Danilo, Miretti, Locatelli, Rapio, Chiesa, Ken e lì davanti cambiava sono un'era squadra tanto forte da portare i tre punti a casa cioè a me andava pure bene il pareggio stasera a me non dispaceva neanche tanto il pareggio per come si era messa però la pigliamo sempre in quel posto assurdo raga assurdo è assurdo ma assurdo cioè io me l'aspettavo di perdere però preferivo perdere 2-0 al settantesimo piuttosto che perdere 1-0 al novantatreesimo io veramente boh e il gol nasce da Gendusi che punta l'avversario e la mette in mezzo per Marusic che Rugani non riesce bene a marcare e la mette all'incrocio pazzesco io davvero pazzesco Lazio va cambiato allenatore quando cambia allenatore c'è sempre la scossa incredibile perché la Juve nel primo tempo due occasioni il colpitesto è finito fuori e il tiro di chiesa è nato da una bella combinazione tra De Scirabio il tiro di chiesa è parlato da Mandas però Lazio non è che avesse fatto grandi cose rispetto alla Juve sì più possesso palla ma il possesso palla contro il giusto un tiro di Castigiano sull'esterno della rete una cappellata di Chiesny che ha rischiato tanto e la Lazio è andata vicino al gol con Camada un tiro di Felipe Anderson parato da Chiesny ma la Lazio nel primo tempo ha giocato al pari della Juve è stata una partita assolutamente equilibrata è stata una partita assolutamente equilibrata nel secondo tempo la Juventus a me non era dispiaciuta a inizio partita non era dispiaciuta a inizio partita perché la Juventus ha avuto un'occasione abbastanza importante con un cross di inning che è entrato nella ripresa al posto di De Sciglio e poi è entrato anche allo stesso tempo un altro giocatore al posto di Miretti sono usciti Miretti e De Sciglio è entrato McKennie e poi in junior nello stesso momento con un cross appunto a sinistra in inning cambiaso tira parata di Mandas non era un gran tiro quello di Cambiaso ma più di così secondo me non poteva fare era anche un po' defilato poi secondo me la Juve si abbassa troppo la Lazio prende coraggio ricordiamo tua occasione il tiro di Luis Alberto deviato finito fuori di nulla il tiro di Marosic deviato finito fuori di poco e poi arriva l'inchiappettata la Juve si è presentata all'Olimpico con un 4-3-3 che sinceramente non avrei schierato cioè nel senso avrei schierato ma non in questo modo con De Sciglio titolare no, no non è che abbia fatto i disastri De Sciglio De Sciglio non ti dà spinta offensiva Cambiaso male, Cambiaso non mi è piaciuto UEA quando è entrato Marino Ealing così così anche se è stato quello che mi è piaciuto di più McKennie, me non ho capito la sostituzione di Ken per mettere Sekulov che veniva dalla next gen per fargli fare gli ultimi 10 minuti all'Olimpico quando eri 0-0 i giovani mi hanno schierato in un certo modo nel senso tu puoi mettere Sekulov ma non in quel momento dove stai 0-0 mi togli Ken che su me era stato uno dei migliori in campo ma è servito, spalla la porta, bravissimo quindi Ken a me è piaciuto tanto stasera ma perché lo togli per mettere Sekulov? perché? perché togliere Chiesa era corretto per mettere indizio cioè ci poteva stare ma togliere Ken per mettere Sekulov non ha senso non ha senso Ken è uno che lotta Sekulov è uno che non ha mai fatto un minuto in serie ah ragazzi boh io preferivo parlare in una maniera in una maniera diversa pazzesco veramente la Lazio non ha giocato il punto è che la Lazio non ha giocato in maniera impressionante sai se è stato un minuto o no è stata una partita alla pari è stata una partita da 0-0 è stata una partita da 0-0 questa per questo il punticino non era un brutto risultato il sabato santo rovinato eppure la Pasqua eppure la Pasqua per il secondo anno di fila davvero io e poi sempre contro la Lazio ovviamente e poi contro la Lazio perdiamo però che dì complimenti a Tudor complimenti alla Lazio però davvero la Lazio vince una partita che la Juventus poteva pareggiare la Juventus la poteva pareggiare un punto 0 cambiava poco sì però è comunque una sconfitta è un'altra sconfitta è un'altra sconfitta io l'avevo già messa in preventivo però manca fa così nel senso io mi aspettavo di perde ma non in questa maniera non in questa maniera Miretti impreciso Locatelli ha sbagliato tutti i passaggi lunghi del mondo nel primo tempo e nel secondo me che abbia fatto una partita incredibile Rugani sbaglia a marcare mano se c'è l'ultima occasione la difesa ballerina perché il cross di Gendusì c'è una dormita colossale della difesa però Lazio non ha fatto nulla di che stasera non ha fatto nulla di che io spero Martiti di vedere la Juventus vincente almeno quello almeno il Coppa Italia di portarci un trofeo che ce lo meritiamo noi tifosi noi tifosi ce lo meritiamo per tutto quello che è successo negli ultimi anni ma dai ma io veramente io posso capire tutto ma questo no cioè questo veramente no questo no ripeto non sono così tanto arrabbiato così come altre volte perché comunque in Champions ce ne vanno 5 di squadra e poi da adesso il calendario sarà un po' meno difficile però perché la Frentia si può battere perché il Torino si può battere perché il Cagliari si può battere però non ci voleva questa non ci voleva non ci voleva